bella ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi edison replay abbiamo chef coach contro dwelling bell 96 vediamo ok parte chef coach vabbè il rating bello alto è ok abbiamo fertilizzante evil thorn che non so neanche cosa faccio sta carta qua ok è un portino per titania un po strana prima volta che lo vedo dandy lion truppa e botola quindi immagino che sia un amarillo un planturbo contro sirocco shura da stornado calut gorge ma me non piace comunque gorge dite quello che volete ma no in blackwing no ok andiamo avanti va bene qua un truppo attira subito sto coso e quindi ne evoca due e dopo setta uno passa questa è una giocata che non mi piace sotto nessun punto di vista ok gli pesca blizzard ok fa e boh qua cosa ti aspetti è certo che te l'aspetti botola vabbè una te la fai te la fai e basta fai sirocco prima e no questo no se ti aspetti botola è meglio fagli sirocco adesso e poi rendi live blizzard è meglio ok pescava l'amarillo e ok si valgono anche come tributi avevi però devo rimanere un field boh non lo so ok avrei fatto tu prima 1 2 3 milla lo schifo picchia di cento picchia di cento picchia di millenove entra gorza gorza di millenove ricetta mirror passa pesca sbora è questa qua sai che amarillo è già botola un po strana per amarillo però potrei aspettarmi mirror raggi che break ott rischi play questo boh ora setto una per difendersi ma non serve a niente pesca anche titanial milla ancora lo schifo milla due debris non male ok porta titanial calut pesca 1 questa sta lì buon questo non poteva beccarsi 2008 e dopo comunque aveva caluto vabbè gli fa catastro adesso lui setta una raggi che break ha perso adesso ok certo avesse settato una trappola ancora considerato che può darsi che giochi un po più di trappole non sarebbe stato un bene ok pesca un altro amarillo arifa fertilizzante fertilizzante dust su fertilizzante fortissimo setta dandy ok questo normal tantissimi danni 3400 danno e c'è anche brain e immagino che sia ok terzo debris reborn fa black cross gli pulisce tutto fai token e passa ok pesca botola ok sta cambiando di token normal sirocco picchia setta botola passa cos'è sta roba ah però è una mirror di piante strano ok forte in questo caso immagino ok pesca gale è qua uno stardust ci sta bello grande sì sì e avrei fatto un altro ok oppression comunque forte un altro ancora vedi stardust l'avrebbe salvato qua marchio vaio che picchia ok ok eh no non fa lì niente questo no non lo commento dandy lion ancora dandy lion ancora dandy lion ancora i tributi però comunque c'ha la botola sotto cazzo è sta roba hai proprio amarillo piantone super mega combo to the level dei tributi e mostra head on field plus 3 ok ok un po' strana sta cosa fa vedere cos'è ok ok titanian e non porta più niente perché l'altra ce l'ha in mano muove prende amarillo 5000 finita è finita che combo incredibile un po' occasionale oserei dire però ho fatto male ok parte black wing ora parte sirocco oppression corvo botola vaio sto corvo sarà sicuramente forte e parte hidden armory debris ancora sto coso tronade è ancora sto coso l'incapibile ok va benissimo così deve fare se fa questo impazzisco giuro ok 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 trebusa trebusa mi sa che gli manca un pezzo giusto ah no ha fatto effetto questo ok e non poteva portare non poteva portarne un altro euro e portare dandylion less than only quante vabbè non vedo perché no perché non poteva vabbè magari mi sto qualcosa io ok sirocco qui si backbottola sette due figurine e passa pesca foolish manda dandy oppression il denarmory per marchio picchio 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 ok ti fa oppression per toy questo non è che ha molto senso se lo lasciava lì dove era ah perché ha paura di sciura ci sta ok allur qua forte questo è un allur malissimo pesca malissimo questa qua non riesce a tagliare i titani almeno nella vita pesca una titania vabbè inutile debris picchia picchia per mille ottocento vita ok qua non puoi neanche ribaltarla perché questo non farà niente farsetto deve fare maestro poi l'altro maestro d'armi con value ah no vabbè c'ha la combo la combo però è sotto oppression quindi l'unica cosa che può fare è quella gale gale fa maestro lui glielo nega non glielo nega ebbè c'ha marchio che cazzo io ne frega ormai è andata gli dico roll su direbbe proprio di no ci ha provato il trassone insulti per lui perché ci ha provato a mamma mia vabbè di di cross chiudiamola così ragazzi c'è al prossimo video è il prossimo video